Quella che sta per raccontarvi è una storia che parte da molto molto lontano. Tutto è ben inizio a metà del 1800. Un signore con una folta barba e tutto vestito di rosso, in una fredda, freddissima notte d'inverno, si incamminò per un luogo... Ma quali le Garibaldi? Noi dobbiamo fare un documentario sul Natale. Ma come sul Natale? Ma avete fatto preparare sull'unità di... Ma mi sono imparato Garibaldi! A me sta pure Garibaldi! Ma lei era Babbo Natale, ma ditelo prima! Stiamo arrivando verde! Stiamo arrivando verde! Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Is there what you want Peace between chicken we have Christmas with the others Is there what you want Don't show us on me phone Because it's Christmas time It's Christmas time Panettone is on the table And everybody's drinking No mosquito Put to buy a tree Another throw tree Because otherwise it won't Die, 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 die Panettone is on the table Panettone is on the table Another one Infatti è quello Senza canditi Christmas with the others Is there what you want Peace between mir Questa for me Christmas with the others Is there what you want Don't show us on me phone Because it's Christmas time Oh, it's Christmas time Please don't drive Don't drive Don't drive Proprio come Whichche van da van Is there what you want Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501